Assessore Carlettino è una giornata importante per le colonie feline nel Comune di Arezzo che ricevono cibo comprato dal Comune di Arezzo, 40 quintali che vanno alle colonie. Quante sono le colonie nel Comune? Le colonie sono circa 180, quindi sono un numero diciamo cospicuo e noi gli veniamo in aiuto e aiutiamo appunto questi volontari perché i custodi sono volontari e li aiutiamo nel loro lavoro, nella loro passione, nel loro amore per gli animali. Ci sono anche novità importanti per quanto riguarda il cimitero degli animali? Sì, forse verrà realizzato, anche sicuramente verrà realizzato con grande soddisfazione mia. Io presentai un atto di indirizzo anni fa quando ero consigliere comunale proprio per chiedere la realizzazione di un cimitero per gli animali d'affezione. Diciamo che stiamo procedendo. Quindi è vicina alla giunta la delibera? Sì, è vicina alla giunta. Sandra Capogreco, facciamo anche un appello alle sterilizzazioni di cui c'è sempre bisogno? Sì, allora il meccanismo ora è oleato, come si dice, funziona anche molto bene. Le sterilizzazioni dell'ASL sono di livello, però sono in numero non adeguato alle richieste. Per cui il Comune ha lunghe liste di attesa, almeno qui ci stanno dicendo le persone che vengono a ritirare il cibo e il Comune sappiamo non riesce a evaderle per mancanza di posti. Quindi un appello, dottor Durzo, che se ci ascolta, cercare di incrementare le sterilizzazioni.